Cagliari per vedere questo Cagliari Napoli con Mario Mattioli Allo stadio Sant'Elia, splendente in tutta la sua ormai reversibile decadenza ed in una serata gradevole si affrontano due squadre impegnate a dare continuità agli ultimi risultati positivi Nel Cagliari Bisoli preferisce Laner al posto di Nainggolan mentre nel Napoli con il cabocannoniere Cavani in panchina rientrano Cannavaro, Dossena e Gargano oltre a Santa Croce che cerca di mettersi alle spalle un anno pieno di infortuni arbitra il signor Rocchi di Firenze L'appoggio su Conti che ha superato il momento di crisi assieme ai Matri intanto sul lungo lancio di Conti al terzo minuto il tentativo di Matri Sosa, Ansic, il tiro la parata di Agazzi di puro istinto su Gargano Rivediamo il tocco e il bel tiro di Gargano in corsa collo pieno Agazzi non sta a badare tanto allo stile quanto alla sostanza Calcio di posizione per il Cagliari C'è Nenè lui questi colpi li ha anche se la distanza è notevole non meno di 35 metri il destro De Santis respinge è un gatto il portiere napoletano la palla sul fondo Bisoli si dispera intervento sul pallone di Gargano dice Rocchi vicinissimo all'azione il traversone attenzione la palla sfiora il palo grandissima occasione per il Napoli con Lavezzi alla trentimesimo ecco possiamo rivedere il traversone di Amsic e il colpo in testa di Lavezzi è l'asse portante del Napoli è tutto pronto per la ripresa tra Cagliari e Napoli Lavezzi con il possesso del pallone dopo il rimpallo ancora Lavezzi pericolosissima l'azione del giocatore napoletano il tiro è la parata il tiro di Zuniga c'è un cambio esce Sosa ed entra Cavani le ultimi secondi di gioco ancora Pinardi Nainggolan Pinardi intervento durissimo difensivo calcio di pulizione i tre minuti di recupero sono finiti siamo nel quarto abbondante Biondini a Nainggolan il tiro ribattuto da un muro difensivo riparte Cavani Cavani velocissimo supera la metà campo accaccato anche da Lavezzi la palla a Lavezzi Lavezzi il tiro la palla in rete al cinquantesimo clamoroso alla Sant'Elia il gol di Lavezzi che regala la vittoria al Napoli una cosa incredibile mai vista la partita era finita praticamente gol del Napoli Napoli passa a Sant'Elia Napoli uno Cagliari zero